La Fiera Internazionale dell'Agricoltura della Zootecnia di Foggia fa della Capitanata la protagonista di un format unico nel suo genere, caratterizzato da prove dinamiche in campo, aree tematiche, workshop multidisciplinari riservati alle nuove frontiere dell'innovazione in viticoltura. Tra gli appuntamenti più interessanti la presentazione a stampa e addetti ai lavori di Enovitis in campo, manifestazione organizzata da Unione Italiana Vini e Verona Fiere e patrocinata da Regione Puglia e Feder Una Coma. Puglia è una delle regioni più importanti d'Italia per la viticoltura, convinta peraltro che questo evento sarà un evento straordinario nella storia di questa manifestazione, ci aspettiamo più di 10.000 visitatori e più di 150 esploritori. Protagonisti ai Enovitis in campo saranno anche l'Innovation Challenge, il premio assegnato da un comitato scientifico alle migliori innovazioni tecnologiche presentate in fiera e il concorso Vota il Trattore, grazie al quale sarà eletta la macchina più votata tra quelle esposte e provate in fiera. Dedicato alla promozione delle tecnologie per la viticoltura, l'evento si terrà in Puglia i prossimi 17-18 giugno. Saranno i filiari delle oltre 250 ettari di vigneto della tenuta Torrevento a Corato in provincia di Bari ad accogliere oltre 150 espositori. L'appuntamento che di solito è dedicato ai macchinari e alle attrezzature agricole che quest'anno si arricchisce per la prima volta di un articolato programma di eventi, convenni, workshop e seminari tematici sul mondo dell'agroalimentare. Questa è un'opportunità perché ci consente di tenere assieme la parte dell'analisi degli strumenti a disposizione finanziari che appunto diventano il supporto per i nostri agricoltori e di vedere direttamente in campo qual è l'operatività delle nuove tecnologie. Grazie.